Cercare lavoro con ingiusti strumenti, grande affluenza all'evento organizzato ieri da DECO Italia S.p.A. con appuntamenti fissati anche nei prossimi giorni per dar modo a chi è in cerca di lavoro di trovarlo con intelligenza in linea con le proprie competenze. D'altronde il mondo del lavoro è in continua evoluzione, si muove per dare opportunità a chi vuole mettersi in gioco. Si riscontra nei paesi e anche nella vallata un problema delle competenze ma di motivazione del lavoro. Per questo bisogna fare uno sforzo per rimettere il lavoro al centro dell'idea di sviluppo. È stata questa la mission dell'incontro di DECO Italia S.p.A. Una giornata quella di ieri interamente dedicata a supporto alla scoperta delle nuove strategie che animano il settore del lavoro. Un'opportunità per avere una consulenza personalizzata, per poter analizzare le informazioni personali e professionali, metterle in sistema con la realtà territoriale. Il lavoro è per tutti il primo strumento di indipendenza, un potente mezzo di inclusione sociale. L'inserimento nel mondo professionale è anche fondamentale per poter scrivere nuove storie di vita. Da qui lo sforzo di DECO sul Mora.